Sindaco, la settimana scorsa la CIG si è riunita nella sala del Consiglio Metropolitano. Questo significa che la città metropolitana in futuro potrà avere un ruolo nella gestione e programmazione delle opere di accompagnamento alla TAV? Lo deve avere. Da questo punto di vista a me sembra proprio questa, la sede, proprio la città metropolitana, dove fare questa discussione. Mi sembra che il commissario straordinario che ha in mano la gestione della tratta nazionale e anche le opere di accompagnamento abbia esattamente questa impostazione. C'è una impostazione che dialoga con le istituzioni, sicuramente i comuni, aggiungiamo noi la città metropolitana, oltre che la città di Torino, perché questa è una questione proprio tipicamente di area vasta. Quindi è sicuramente quella una sede in cui i comuni, ma anche la città metropolitana, darà il suo contributo alla discussione.